Che fine ha fatto la richiesta al Governo di riconoscimento di stato di emergenza riguardo all'incendio del Morrone? Se lo chiede l'ex Presidente del Parco Nazionale della Maiella, Franco Iezzi, che ha rilanciato il caso con un post sulla rete sociale di Facebook. Ma non è il solo a domandarsi a che punto è la pratica. Dopo il clamore sollevato a pochi giorni dall'incendio, nulla si sa sullo stato di emergenza dopo le richieste arrivate dai comuni colpiti dalla regione Abruzzo. Nel frattempo, a 100 giorni dall'incendio, il Comitato territori attivi, che chiede la rimodulazione dei fondi del Masterplan, ne sono alla sveglia sul rischio idrogeologico. C'è stata la paura, spiegano dal Comitato, sembra essere cessato lo slancio con il quale regioni e comuni proponevano un immediato intervento contro il rischio idrogeologico e la perdita di suolo nelle aree attraversali dall'incendio. Risulta soltanto l'intento, peraltro in forme diverse e non certamente con un'azione unitaria, di comuni ed enti interessati di costituire un protocollo di intesa finalizzato al monitoraggio del morrone finito il rischio idrogeologico. Il terra, territori attivi, Comitato costituitosi all'indomani dall'incendio, invece ritiene che il rischio idrogeologico non sia il solo fattore da considerare nella gestione del post-incendio. La perdita di suolo, anche in assenza di frane reali o potenziali, è un fenomeno che interessa tutte le aree in pendio e come tale rende necessario un intervento immediato nei primi mesi seguenti all'incendio. Inoltre, il Comitato ritiene che le competenze per un monitoraggio approfondito della complessa situazione nato sul morrone non possono essere esclusiva di un'unica categoria di professionisti, ma si rende opportuno la creazione di una squadra di tecnici afferenti a diverse discipline che possono al meglio valutare, sotto i diversi profili, sia lo stelo dei luoghi e la loro evoluzione, sia gli interventi da mettere in campo per ridurre il danno.